per tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e sono christian e oggi parliamo di tante cose in italia di altro di juventus e di altre cose allora intanto è tutto intanto di iniziare a parlare queste cose il telefono forse è meglio dicevo prima di iniziare a parlare queste cose ovviamente lasciato come mi piace iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella perché youtube non fa il bastardo e non manda le notifiche e attivate anche la campanella mi raccomando e attivate la campanella su tutti i video che pubblicherò bene dopo questa premessa possiamo cominciare allora partirei dall italia che purtroppo è ancora una sconfitta che brucia è una sconfitta che brucia perché brucia purtroppo non possiamo far niente ieri si è giocata si è giocata la spregge mondiale tra italia ma c'è da del nord sappiamo tutti come è andato a finire ossia 1 a 0 del magia nel nord con quali 3 kowski da fuori aree che se ci riprova 30 volte non ci riesce mai una volta veramente la riuscire 4 italia tiro da fuori aria beffa donna roma sull'angolino non può nulla purtroppo donna roma che è stato veramente spesa la sprovvista e ha preso a porla quindi niente siamo arrivati fuori dai mondiali si parla anche di un attimo i mancini delle missioni mancini chi potrebbe arrivare al suo posto sbagliate tante cose tante cose ma io mi spiego una cosa berardi ieri sera per anni ha avuto 44 44 sono 44 occasioni 4 è più cramorose quella stata che è quella che è stata praticamente che dimitreschi era fuori dalla porta lui era davanti alla porta vuota la porta era vuoto non c'era niente bastava tirare una tiro potente che beccasse la porta avesse avrebbe segnato invece no ha tirato una straccio bagnato e la parata dimitreschi penso che se avesse giocato politano al suo posto probabilmente avrebbe fatto gol e se avesse giocato chi sarebbe l'altro l'altro discorso ma purtroppo con i secoli ma non si vede nessuna parte comunque dicevo purtroppo ragazzi è andata così purtroppo è ben perso uno sconfitto abbastanza in meritato abbiamo fatto 30 mila tiri senza fare un gol loro due tiri un gol neanche penso fifa nei match più scriptati di qualsiasi cosa che cacchio dovevo dire ragazzi in italia purtroppo è andata niente fuori e non ci facciamo fare niente purtroppo io le colpe non le darei a mancini anzi non le darei a mancini comunque ci ha fatto vincere un europeo quello sì però io sinceramente tutte le colpe a mancini non le darei per per me poi boh comunque io avrei convocato altra gente ieri sera se fossi stata lui poi non so vabbè a parte gli scherzi niente che devi dire c'è niente altro da dire siamo fuori e boh ovviamente un gol al novantesimo che l'interio l'ultimo gli ultimi secondi dove praticamente stavano per terra per del tempo ovviamente all'ultimo secondo ci fanno gol se non manca loro come ha fatto e niente si parla delle missioni mancini al suo posto probabilmente potrebbe arrivare cannavara con lippi che attualmente sono i due più diciamo più in poll per sostituzione della nazionale per sostituto di di mancini potrebbe arrivare anche ancelotti allegri e gattuso ma penso che questi tre forse quelli più potrebbero in mente probabili sarebbero ancelotti e allegri che secondo me ci potrebbero anche stare secondo me ancelotti ha vinto tutto praticamente ha vinto qualsiasi cosa allegri un po' diciamo che è quello che vuole un po' vincere sempre quindi ci potrebbe anche stare come allenatore della nazionale visto che la nazionale bisogna vincere bisogna per forza vincere la nazionale purtroppo è andata così non ci posso far nulla eeeh che devi dire non c'è niente da dire non c'è niente da dire ragazzi scusate ma ma di io non c'è niente da dire boh generalmente io spero che mancini non dia le dimissioni devo essere sincero perchè comunque è un bravo allenatore ci ha portato comunque io non attribuirei le colpe all'allenatore io sinceramente non attribuirei la colpa la colpa solo a lui perchè comunque quando c'era Ventura non è che c'è vabbè quando c'era Ventura non è altre cose era proprio lui che faceva cagare era diverso però comunque avancini si è fatto vincere un europeo e non è e non è un caso non può essere un caso ovviamente l'europeo vabbè abbiamo avuto un po' di culo perchè abbiamo avuto culo però comunque con quel culo diciamo abbiamo vinto l'europeo no? quindi non è che speriamo di questo che da questa sconfitta diciamo ripartire e che rivedere la solita della stessa nazionale prima di rivedere la vittoria dell'europeo speriamo boh vediamo che che devo dire purtroppo niente c'è bisogno di dire niente cioè più che altro ieri sera a parte forse qualche errore forse un errore di mancina la difesa non ha giocato male cioè alla fine ci stava la difesa la difesa c'era il centrocampo era abbastanza buono Verratti ha giocato anche bene anzi ha giocato benissimo praticamente giocato solo lui il centrocampo è nata è più che altro l'attacco che non riusciamo a metterla mai dentro cross calci d'angolo colpi di testa che il portiere la manda fuori lo prende il difensore poi lo prende lo prende con l'altro niente non riusciamo mai a segnare la calci d'angolo non c'è stata una volta che abbiamo segnato la calci d'angolo credo forse forse non abbiamo mai segnato la calci d'angolo comunque chiuso l'argomento della nazionale purtroppo è andata così non ci possiamo fare niente 1-0 della Mastonia ma purtroppo non ci possiamo fare niente ci poteva anche stare uscire col portogallo perché comunque il portogallo era una squadra forte ma no c'era nel nord veramente siamo veramente alla frutta c'era quella ma c'era nel nord non c'era 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 neanche pande per Elmas al pande aveva lasciato la nazionale e Elmas non l'avevano neanche convocato come cazzo cioè ma veramente ma come siamo messi come siamo messi ma veramente fatevi due domande fatevi le due domande siamo messi veramente male questo è il secondo la seconda volta che non eccediamo ai mondiali io spero che fra quattro anni spero di di qualificarci ai mondiali speriamo perché sinceramente fare un altro un altro anno fuori non lo vorrei fare sinceramente perché tra i tre anni fuori veramente diventiamo una squadra di ridicoli ma veramente una squadra di ridicoli cioè ovviamente abbiamo vinto l'europeo non riusciamo a qualificarci come mondiale ci stiamo rendendo conto della situazione cioè il portogallo per farvi capire l'europeo del 2016 l'ha vinto ma nel mondiale del 2018 si è qualificato cioè stiamo parlando di tutt'altro universo vabbè perché il portogallo è più forte ok però comunque il portogallo dopo aver vinto l'europeo si è qualificato al mondiale noi no noi no noi non ci siamo qualificati al mondiale ci stiamo rendendo conto della situazione due anni dopo il portogallo si è qualificato al mondiale si è qualificato noi no non mi ricordo se si è uscita ai gironi il portogallo non mi ricordo qual cazzo aveva fatto la mondiale nel 2018 comunque ha fatto stacco e comunque si è qualificato al portogallo almeno nella fase di gironi ci è arrivato noi neanche quella neanche quella neanche nella fase di gironi siamo arrivati non ci siamo neanche qualificati al mondiale stiamo rendendo conto di come cazzo siamo messi è una domanda seria stiamo rendendo conto io non so vabbè chiudiamo questa parentesi della nazionale chiudiamola e speriamo di non riaprirla mai più parliamo della Juventus dell'argomento di Bale che non rinnova e di altri rinnovi che forse rinnoveranno non lo so allora la Juventus ha deciso di non rinnovare Paolo Di Bala scelta per quanto riguarda me giusta secondo me perché perché ovviamente ragazzi Di Bala non si discutono le qualità tecniche del giocatore per carità è forte e quello non si discute ma però ragazzi non c'ha non c'ha la continuità fisica non ce l'ha la continuità fisica cioè gioca 4-5 partite se va bene ma poi si infortunia chi mettiamo al suo posto cioè non c'è nessuno cioè Allegri vorrebbe mettere al centro il progetto no? però non sapeva che Di Bala fosse così fragile dal punto di vista fisico cioè veramente sta diventando peggio di Ramsey cioè no peggio di Ramsey no perché Ramsey praticamente era il progetto per tutta la stagione un'altra po' però comunque sta diventando veramente non so veramente fragile come non so cosa guarda scusate dicevo Cooker non secondo me è una scelta abbastanza giusta per quella fatta dalla società della Juventus perché secondo me non rinnovare la parola di Bala ci poteva anche stare ci può stare anzi perché comunque alla fine lui in teoria fisica non ce l'ha avuta quest'anno non ce l'ha avuta gli anni scorsi ce l'aveva giocava praticamente sempre in questi ultimi anni causa Covid e altre cose non si è più ripreso non è tornato il di Bala che tutti conosciamo e quindi niente ti ho toccato ma è giusto secondo me è giusto perché comunque il teoria fisica di di Bala non ce l'aveva anche con Sarri si è visto ha giocato poco ma per colpa della sua teoria fisica non reggeva non reggeva il fisico proprio non gli reggeva la pompa cioè non gli reggeva cioè se c'erano 5 partite poi si infortunava abbiamo visto anche contro che cazzo era contro l'Atletico Madrid quanto allenava Sarri mi pare fosse l'Atletico Madrid non mi ricordo che comunque di Bala era importante per il suo gioco comunque giocava sempre di Bala giocava sempre sempre era veramente un giocatore imprescindibile per Sarri giocava sempre giocava quanto stava bene e boh cazzo di video vabbè secondo me è una scelta abbastanza anche giusta da parte della società comunque sappiamo che di Bala non è stato chissà che chissà che non ha avuto chissà che integrità fisica però comunque è stato veramente un grandissimo giocatore ha fatto veramente tanti e tanti gol ha superato anche Platini mi sembra nella classifica marcatori per la Juve quindi grandissimo Paolo boh che ti devo dire è una scelta giusta comunque è una scelta giusta ok si parla anche di rinnovi di sciglio di quadrato e di altra gente comunque secondo me quadrato dovrebbe deve proprio essere rinnovato deve è un obbligo deve essere rinnovato quadrato perché comunque è forte quadrato cioè è forte quadrato non è che scoppiamo oggi si è forte per il non vediamo se la Juve vuole tenerlo o vuole giocarsi qualche opportunità in una B che vuole giocare di titolare non lo so vediamo di sciglio non lo so vediamo non penso che il suo giocatore migliore uscita di sciglio e boh che ti devo dire possiamo parlare con delle voci di mercato si parla di Ludwig della Juventus ma non so se arrivi spero di sì perché sinceramente in difesa siamo messi abbastanza male Chiellini praticamente quasi sempre infortunato comunque anche in difesa parlando ovviamente anche della nazionale cioè abbiamo avuto Chiellini e Bonucci per tanti anni tantissimi anni ma purtroppo l'età si fa sentire anche per loro già uno c'ha 37 anni che è Chiellini e l'altro ce n'ha 35 34 ma di cazzo ce n'ha Bonucci 36 35 comunque anche loro iniziano ad avere una certa età comunque non 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 reccono più neanche loro ovviamente cioè non è che devono mantenere per forza un'integrata fisica per quell'anno se gli va bene sì ma purtroppo essendo difensore praticamente cioè quegli anni non ce l'hai l'integrata fisica non ce l'hai ok Bonucci sappiamo che Bonucci comunque è stato sempre affidabile sì ma comunque anche lui sta sentendo l'età sul gruppone quindi anche lui ormai è diventato come Chiellini è diventato come Chiellini si è sempre praticamente quasi sempre il panchina l'unico che gioca sicuramente è De Ligt che comunque non può giocare da solo o Metti Lugani che fa schifo tanto abbiamo visto che Lugani non è che abbia fatto chissà questo granché poi nella prossima stagione ai gatti metti gatti ma non credo che venga subito la Juventus giocare e giocarebbe titolare a posto di Bellini Bonucci non penso almeno non penso almeno per quanto io conosco la Juventus gli farebbe fare un anno di gavetta da un'altra parte e poi se lo riprenderebbe il prossimo anno per come conosco la Juventus poi non lo so se ne dette veramente tante rispetto al percorso mercato se ne parlava di Giorginio alla Juve si parlava di Pogba del ritorno di Pogba alla Juventus si parlava di quello si parlava di quell'altro che cacchio deve dire boh sinceramente Pogba comunque veramente tante scelte dalla sua parte alla Juve al PSG che comunque è una squadra forte ma comunque non vince mai la Champions perché sempre si ferma gli ottavi contro il Real Madrid quest'anno il Real Madrid che comunque è una squadra molto forte e sinceramente il ritorno di Pogba l'accetterei anzi a mani basse l'accetterei perché visto come abbiamo il centrocampo adesso se dovessi tornare il Pogba che abbiamo conosciuto quando era con noi i primi anni allora di proprio è un altro mondo ma anche Giorginio può stare sì per carità ma purtroppo il Jazz è comunque anche bloccato non può rinnovare non può fare fa poco è sempre sanzionato dal governo inglese scusate un po' sonno e boh niente che vedevo di che vedevo dire niente io la mia l'ho detta penso che non ci sia nient'altro da dire per me Rudiger a me sinceramente non ti spiacerebbe anche se che le 10 minuti di ingaggio per la Juventus sono tanti per me sinceramente se 10 minuti di ingaggio gli irriterei perché tanto alla fine l'unica certezza in difesa è De Ligt Rugani anche lui c'è un fortuna non è che è integro anche lui comunque deve avere due certezze in difesa il nome De Ligt è Rudiger uno che ha 22 anni 23 quanti c'è una De Ligt adesso non mi ricordo e Rudiger che ha 28 anni o 29 non so se l'abbia compiuto forse 28 ci sta perché comunque alla fine Rudiger è un difensore molto forte si è fermato dal Chelsea come un grandissimo difensore centrale e niente può anche fare da Chiorgio che ormai dovesse venire Gatti dovesse rimanere alla Juventus magari potrebbe giocare in panchina anche ormai come come panchinaro di uno di due facendo riposare uno di due o De Ligt o Rudiger comunque ci potrebbe anche stare o poi magari ci fai giocare che le ne buonucci quelle poche volte che sono sani facendoli entrare facendoli entrare in campo niente chiudiamo il video ormai perché tanto penso di aver detto tutto non c'è niente altro da dire io la mia redetta la mia quello che penso io l'ho detto poi non lo so se c'è altro da dire sinceramente io non ho altro da dire no giusto si è parlato anche del sostituto di Ribala potrebbe arrivare tanta gente comunque sinceramente se dovesse arrivare a Zaniolo a portare Ribala sarebbe comunque peggio di Ribala non che sia scarso Zaniolo anzi è forte però si è fatto due crociati due o no due due crociati e puntare un giocatore che si è fatto due crociati non ha senso non ha senso perché comunque non ha senso perché si è buttato praticamente due stagioni al cesso perché comunque non sai se ti può tenere tutta la stagione da titolare devi trovarti un panchinaro da qualche parte che faccia la panchina a Zaniolo se casomai dovesse arrivare a Zaniolo anche se io spero che non arrivi perché sinceramente andiamo anche a peggiorare perché come sostituto di Di Bala se Di Bala fosse titolare e lui fosse la riserva allora ci poteva anche stare titolare allora no abbiamo visto anche nel derby della Roma non ha giocato ha giocato Pellegrini e hanno venuto 3-0 poi quindi non so io spero Zaniolo non venga la Juventus per quanto comunque sia forte Zaniolo si parla anche di Scamacca che comunque è un grandissimo attaccante per me questo cazzo solo ha fatto tanti gol insieme a Scamacca no che cazzo dico insieme a Raspadori sono sorry si parla di Raspadori di Scamacca di tanta gente in attacco posto di Di Bala non so chi arrivi spero qualcuno di buono spero speriamo di cambiare anche sto cazzo di terzino-sinistro perché non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo un terzino-sinistro cioè sì c'è c'è De Sciio ma De Sciio è Panchinaro Alexandro il titolare fa cagare quindi devi comprarti per forza un terzino-sinistro che sia non dico forte ma almeno decente che sia scarso quanto Alexandro ma almeno sia discreto da giocare bene almeno non ti dico si sia fortissimo ma almeno forte non fortissimo forte no non fortissimo forte non ti dico chissà chi vuol dire con Marcello perché ormai Marcello c'è a 32 anni 33 quanti cazzo c'è n'ha dunque Marcello anche lui ormai ha vinto tutto ha vinto tutto Corriere a Madrid tutto di più era vinto Corriere a Madrid quindi non ha non ha grandissimi stimoli di venire in Italia se fosse venuto prima allora sì se no no non ha senso prendere Marcello e comunque ha un anno in più di di alexandro anzi forse anche qualcuno in più di di uno e non avrebbe senso prenderlo Marcello se fosse stato qualche anno prima allora probabilmente ti avrei detto di sì adesso sono sicuro e niente spero mi prendo una terza che sia troppo decente che ti devo dire boh niente sto parlando da 25 minuti mamma mia così tanto non ho mai fatto un video da 25 minuti tra comunque dopo prima di farla lunga fino a 30 minuti chiudo lo video perché tanto ormai penso di aver detto tutto quello che volevo dire altro da dire penso che non ci sia e niente spero che questo video vi sia piaciuto ovviamente se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanellina e noi per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video bella raga